Buonasera a tutti e rieccoci ancora una volta siamo sintonizzati su Cannotv, oggi è il 31 dicembre ultimo dell'anno, vi saluto augurandovi un buon inizio di 2023 e raccontandovi, per chi fosse interessato ovviamente, qualcosina circa la mia ultima visione in sala. Un film che ho amato veramente molto, avrei voluto in realtà registrare prima il video relativo all'ultimo film di Spielberg, naturalmente si parla di quello come avrete intuito dal titolo di questo filmato, ma purtroppo non ho avuto modo di registrarlo. Lo faccio adesso decantandovi il mio amore verso The Fable Man e accade un fatto piuttosto particolare perché questo film io sono andato a vederlo due volte, sono andato due volte in sala, per quanto riguarda la seconda visione ringrazio il mio amico Luca, un ragazzone che mi ha spinto ad andare in sala appunto per la seconda volta a vedere The Fable Man, io ero già andato da solo a vederlo qualche giorno prima, ma essendomi mancato quella componente emotiva forse che alla prima visione mi aveva impedito tutto sommato di commuovermi rispetto a delle scene che avevo comunque già riconosciuto essere molto molto grandi, molto belle, ho accettato appunto di andarci una seconda volta in sala a vedere un'altra volta il film e alla seconda visione sono riuscito a comprendere probabilmente, insomma credo ecco di essere riuscito a comprendere appieno la magia di questa ultima grande opera di Steven Spielberg, un regista che tutti quanti conosciamo, naturalmente non ha bisogno di presentazioni, un regista che come come tanti altri insomma amo anch'io, forse il film a cui sono più legato è Incontri ravvicinati del terzo tipo, mi piace anche molto Schindler's List, insomma me ne piacciono naturalmente tanti di Steven Spielberg, uno dei primi film che ho mai visto è stato Jurassic Park, il primo mi ricordo che insomma da piccolo consumavo la videocassetta con il primo Jurassic Park, da tantissimo tempo che non lo riguardo, non l'ho più preso neppure in DVD, però insomma Steven Spielberg naturalmente è un regista che tutti quanti credo conoscano e molti devono il proprio amore verso il cinema appunto lo devono a Steven Spielberg, scusate l'orrendo modo in cui ho articolato questa frase. Ci sono anche dei lavori di Spielberg che apprezzo meno, qualche tempo fa avevo registrato proprio su questo canale una recensione, se così la vogliamo definire naturalmente, su Ready Player One che non mi aveva particolarmente colpito, ci sono dei film che riconosco comunque essere grandi appartenenti appunto alla filmografia di Spielberg, uno su tutti e ti, che per via di una certa zuccherosità insomma la quale sono forse anche un po' allergico non mi hanno mai fatto del tutto impazzire, però comunque sia è un autore che sforna sempre dei film apprezzabilissimi e in alcuni casi arriva a proporre dei veri e propri capolavori o comunque dei film che potrebbero potenzialmente candidarsi tali. Potrebbe esserlo anche questo The Fable Man, un bel capolavoro, un film molto autobiografico che racconta tutto sommato l'infanzia di Spielberg, la nascita della passione verso il mezzo cinematografico, l'attrazione e in un certo qual modo anche la paura perché il film inizia con una bellissima parentesi in cui Paul Dano e Michelle Williams entrambi bravissimi, veramente c'è una bellissima direzione degli attori in questo film incredibile, unica. Mi hanno colpito Paul Dano, Michelle Williams ma anche Seth Rogen e Gabriele Labelle, l'attore, il giovanissimo attore che interpreta l'alter ego diciamo Spielbergiano. Dicevo il film inizia con una bellissima sequenza in cui Paul Dano e Michelle Williams che interpretano i genitori di Sammy Fable Man, alter ego appunto di Steven Spielberg, lo incoraggiano ad andare al cinema poiché lui non ci è mai andato perché è impaurito dalle figure gigantesche appunto che si vedono al cinema naturalmente sullo schermo cinematografico. Sarà la visione del più grande spettacolo del mondo diretto dal grande Cecil B. DeMille a scaturire diciamo nel giovane Sammy Fable Man la passione, la magia per le immagini in movimento, quel desiderio appunto di filmare la realtà distorcendola o rivelandola ancor più di quanto non sappia fare appunto l'occhio umano e in effetti il film è una bellissima riflessione, una riuscitissima secondo me riflessione sul potere appunto del mezzo cinematografico. La famiglia in questione è ebrea proprio come la famiglia di Steven Spielberg. Spielberg durante la propria giovinezza ebbe molti molti problemi appunto relativi al suo essere ebreo, visse la discriminazione che effettivamente si trova a vivere anche Sammy Fable Man nel corso del film, come Fable Man anche Spielberg rimase affascinato dalla visione del più grande spettacolo del mondo, fu uno dei suoi film preferiti, fu tra i film assieme a Lawrence d'Arabia e a pochi altri che scaturirono appunto in lui l'amore per il mezzo cinematografico, per il mondo del cinema e quindi è un amarcord spilberghiano come giustamente l'ha definito qualcuno. È un film che attraverso l'infanzia del grande regista raccontata in maniera sublime secondo me, commentata con una bellissima musica ancora una volta di John Williams che alla seconda visione, devo dirvi la verità, mi è veramente entrata in mente, sostenuta da una bellissima interpretazione di tutti gli attori coinvolti secondo me Paul Dano e Michelle Williams sono da Oscar nel tratteggiare questa bellissima coppia di genitori che come tante coppie naturalmente gioisce ma soffre anche. La loro odissea diciamo familiare, il loro racconto familiare è un qualcosa in cui credo che tutti quanti insomma o perlomeno quasi tutti possano riconoscerne perlomeno alcuni pezzi. È bellissimo il rapporto tra i protagonisti, Spielberg poi attribuisce a questi attori dei dialoghi veramente stupendi, dei dialoghi meravigliosi. Ci sono delle sequenze di fortissimo impatto, dei dialoghi che appunto io ho apprezzato completamente soltanto alla seconda visione e ci sono anche delle sequenze in cui la parola lascia spazio alla musica, alla meravigliosa musica di John Williams che corre appunto sulle meravigliose immagini che propone questo film. È un film che commuove, è un film che può essere secondo me tutto sommato apprezzato anche dai non cinefili, dai non appassionati, dai non esperti di cinema poiché effettivamente nonostante vi siano spesso e volentieri citazioni compare naturalmente una sequenza forse la più importante del più grande spettacolo del mondo, compare anche una sequenza dell'uomo che uccisa Liberty Valance, il volto mascherato di Lee Marvin e naturalmente la filmografia di John Ford è presente tanto che sul finale effettivamente appare fisicamente John Ford ovviamente interpretato da un attore che non è un attore ma è un regista, è il grandissimo David Lynch che interpreta appunto John Ford in un deliziosissimo cameo finale e quindi c'è un fantastico gioco tra registi, c'è un grandissimo regista che interpreta un leggendario regista diretto da un altro grandissimo regista per cui è un bellissimo gioco che naturalmente farà felice, farà felici gli appassionati di cinema ma secondo me non mina più di tanto l'attenzione naturalmente l'attenzione sia appunto per il pubblico generalista che si avvicina, si potrebbe avvicinare appunto ad un film come The Fable Man. Io ve lo consiglio veramente moltissimo, è il racconto di una vita insomma che passa attraverso momenti emozionanti, momenti fondamentali dell'esistenza di questo grande regista che ha in qualche modo scolpito il suo testamento cinematografico. Peraltro alla prima visione che ho eseguito ho anche potuto vedere insomma un filmato di apertura che alla seconda visione non era presente e non ho ben capito perché in cui lo stesso Spielberg presentava il film insomma affermando come fosse il più ambizioso probabilmente della sua intera carriera sicuramente quello a cui è più legato poiché effettivamente è quello che racconta appunto la sua infanzia, la sua vita ed è quello che declama il suo amore verso la settima arte. Prima di andarlo a vedere in sala io leggendo così velocemente la trama mi aspettavo un qualcosa di simile a nuovo cinema paradiso naturalmente altro film sul sull'amore verso il cinema sull'amore verso il mezzo cinematografico e per molti versi autobiografico del suo autore naturalmente in quel caso Giuseppe Tornatore. Forse nonostante io sia lo ammetto anche molto legato nuovo cinema paradiso credo che questo The Fable Man forse sia capace di andare ancor più in profondità quindi io ve lo ve lo consiglio veramente moltissimo andate al cinema perché è un film è un film che merita è un film davvero molto intelligente sotto moltissimi punti di vista tecnicamente ovviamente ben fatto ma si parla di Spielberg quindi potremmo parlare della fotografia del montaggio delle musiche della scenografia è tutto meraviglioso Rick Carter alla scenografia John Williams appunto le musiche una bellissima fotografia di Janusz Kaminski insomma un film assolutamente da vedere e apprezzare forse guardandolo più volte lo si riesce ad apprezzare maggiormente come appunto è capitato a me. Io vi ringrazio per l'ascolto di questo veloce filmato non la faccio tanto lunga vi auguro una buona fine di 2022 un buon inizio di 2023 e quando vorrete potrete ritornare su questo canale poiché arriveranno nuovi filmati ciao a tutti e buone feste